ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video di addicted to games mentre camminavo per le strade della mia città ho visto un negozietto di videogiochi in cui era già uscito The Dust of Us per PlayStation 4 volevo avvisarvi per chi segue il canale che inserò una serie dedicata a questo gioco quindi se volete seguirla iscrivetevi e non perdetevi nemmeno una puntata per voi andrò a fare un piccolo e inutile unboxing di The Dust of Us allora insieme mi è stato dato un codice scritto a mano che dovrebbe contenere dei contenuti aggiuntivi ma sinceramente non so cosa contenga appiamolo scommetto che non ci sarà nemmeno un manuale legato avete notato che è scomparsa il sigillo non c'è più nei nuovi giochi boh apriamolo insieme hop là cosa c'è dentro vabbè c'è la guida e comandi un coupon PlayStation Plus ovviamente le avvertenze legali sulla salute sono stampate all'interno perché si risparmia e il disco di gioco che entrerà tra poco nella mia PlayStation 4 quindi ragazzi in questo gioco se non l'avete ancora giocato compratelo bene ragazzi se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e commentate noi ci vediamo al prossimo gameplay ciao ragazzi ciao